Quando comincia a girare, ignora che il cinema, siamo nel 60-61, che il cinema è un linguaggio così articolato perché ha 70 anni di storia circa. Per lui è la lingua della realtà, come lo chiamava, è una lingua del tutto vergine. La letteratura è il linguaggio della tradizione per Pasolini, perciò nella misura in cui attraverso l'esperienza cinematografica riesce a mettere in discussione questa tradizione, dà dei risultati che per lui sono sempre nuovi. Che lui ritrova appunto addirittura nelle fisionomie, nei vestiti, nella grana di certe stoffe. C'è questa nostalgia lacerante, proprio acutissima, per questo passato in cui risiede l'autentico e che ormai è destinato a sparire. L'Italia si è destra. Ma che ha fatto che ti sei tutta accasciata? E perché? Manco per niente.